Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Non solo Belen Rodriguez, ma anche lei. E, Bum, Tussi Kevales. Le registrazioni di Tussi Kevales sono iniziate già da qualche settimana. Maria De Filippi continua la sua avventura in compagnia di Sabrina Ferilli, Teo Teocoli e non solo. Il programma è esilarante ed è accompagnato da vari volti famosi. Uno tra questi è quello di Belen Rodriguez che non sarà l'unica donna a tornare. Anche lei ci sarà ed è Bum per il format. Scopriamo di chi si tratta. Non solo Belen Rodriguez, ma torna anche Giulia Stabile e Bum a Tussi Kevales. Giulia Stabile, dopo la sua vittoria ad Amici de Maria De Filippi, ha ottenuto un sacco di prestigiose opportunità. Già da un anno lavora come ballerina professionista nel talent show e a breve rinizierà con una nuova edizione, ma non è finita qua. L'anno scorso l'abbiamo potuta vedere e conoscere a Tussi Kevales al fianco dei colleghi Alessio Sakara, Martin Castro Giovanni e Belen Rodriguez. Ci sarà una nuova edizione del programma e andrà in onda come sempre su Canale 5 a partire da settembre. Proprio per l'imminente inizio, le registrazioni sono già partite e Giulia Stabile, nonostante le ultime indiscrezioni, è lì presente, dopo aver raccontato il dietro le quinte con Belen. Amedeo Venza, gossiparo per eccellenza, aveva rivelato che al posto della ballerina ci sarebbe stato un altro ex volto di Amici, il cantante Albe. Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete. In arrivo il cantante dell'ultima edizione di Amici. Il ragazzo da quanto si apprende non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale, scrive Amedeo e conclude così si è pensato a un ruolo per lui all'interno del programma di talenti vari. Si tratta quindi di una fake news, mentre Sabrina Ferilli cambia lupi per Tussi Kevales. Infatti, negli ultimi giorni arriva la conferma tramite il profilo Instagram di Belen. La modella argentina pubblica un selfie assieme ai suoi colleghi e al suo fianco c'è proprio Giulia Stabile. La ballerina di Amici torna a Tussi Kevales ed è un boom di Appalusi. Ormai Giulia Stabile è molto più che amata dal pubblico con il suo modo di fare un innocente e allegro. Non sarebbe stato lo stesso se lei non fosse tornata, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.